Ormai sono circa 4.000 comuni italiani che in questi ultimi anni hanno emesso ordinanza per vietare la vendita e l'esplosione dei botti di Capodanno, sia nella notte di San Silvestro che nei giorni precedenti e successivi. È un importantissimo passi in avanti verso la civiltà. Non dimentichiamo che i botti illegali, ma anche quelli legali, producono danni a volte irreversibili a tantissimi animali, sia domestici che non. Senza contare ovviamente i feriti e i morti tra gli umani. Quest'anno non acquistare e non usare queste merci inquinanti, pericolose, nocive. Rifiutiamo sia i botti illegali, ma anche quelli legali. No ai botti di Capodanno, quest'anno usa la testa, ma anche il cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.